Ciao ragazzi bentornati dal vostro anti youtuber per eccellenza perché lo youtuber nella maggior parte dei casi è l'essere umano che non ce l'ha fatta è l'interista che non ce l'ha fatta allora calciopoli è tornata calciopoli non è mai finita calciopoli ragazzi le chiacchiere stanno a zero abbiamo avuto 10 anni di vantaggio almeno 5 anni di vantaggio per fare terra bruciata nel calcio italiano per vincere il lungo e il largo per confermare la Champions di Madrid per confermare per per diventare quello che la Juve è oggi in Italia fare terra bruciata e ammazzare il campionato e dopo Mourinho il nulla abbiamo fallito miseramente quindi non è colpa non è colpa di nessuna calciopoli siamo noi che siamo mediocri diciamoci la verità eh no ma l'arbitro se il gol di Lautaro che era regolarissimo l'avesse fatto la Juve tutti avrebbero enfatizzato quella spinta avrebbero detto eh ma la Juve vedi c'era il falo ragazzi dobbiamo essere critici dobbiamo essere tre spanne sopra gli altri stiamo di state perché io no i trentenni in su non sono così stupidi state diventando come i gobbi ragionate anzi non ragionate perché ritorniamo arriviamo arrivate sempre con questa scusa ma gli arbitri ma la Juve l'arbitro faceva cagare l'arbitro era un mediocre così come sono mediocri Vesino, Gagliardini, Politano che se n'è andato, Biraghi come loro possono essere scarse l'arbitro non può essere scarso amen amen fatto sta che noi il secondo tempo a parte quella azione clamorosa di Lukaku che si è dovuto fare 50 metri di campo per arrivare al tiro non abbiamo anzi neanche quella non abbiamo fatto tiri allo specchio della porta indirizzati al portiere Cragno è riuscito dal rientrato negli spogliatoi uscito dal campo con i guanti puliti quindi basta con sto arbitro basta con sta calciopo i gobbi sono ladri fanno schifo al cavolo questo lo sappiamo lo sappiamo ma possiamo iniziarci a lamentare quando saremo competitivi perché anche senza arbitri non siamo competitivi altrimenti non fai tre pareggi consecutivi e oltretutto questa squadra per quello che ha fatto ha tutto il diritto di queste battute d'arresto gli altri anni si perdeva quest'anno si pareggia va benissimo va benissimo ragazzi per i giocatori che abbiamo è più che sufficiente no ma loro ci limitano fanno dicono no ma l'arbitro altrimenti noi saremmo primi saremmo primi a 50 punti con una media di 2,6 2,7 di sto passo se secondo voi abbiamo subito torte arbitrali di sto passo dovremmo stare a oltre 50 punti quindi questa è una squadra che riuscirebbe a fare 100 punti a campionato a me non pare e se fosse una squadra che riuscirebbe a fare 100 punti a campionato significa che il girone l'avrebbe passato agevolmente e al girone chi ci sta quando abbiamo giocato in Champions League chi c'era Rocchi questo che già non mi ricordo neanche il nome di cui c'erano tutti questi arbitri schifosi non mi pare quindi significa che dobbiamo fare un po di autocritica quindi significa che facciamo stiamo facendo un'ottima stagione con dei giocatori che fanno schifo al cazzo passo e chiudo questo video io non lo chiedo mai condividetelo con gli amici perché interisti soprattutto i più giovani e soprattutto quelli un po meno frequentatori dello stadio e più frequentatori da bar devono capire che l'Inter sta facendo il massimo e va sostenuto e ringrazieremo questi giocatori dal primo all'ultimo che l'Inter sta facendo il miracolo però dobbiamo capire che non siamo competitivi a livello della Juve e forse neanche della Lazio che ha un tasso tecnico superiore al nostro l'Inter è in costruzione l'Inter ad oggi anche se si comprasse lei gli arbitri come fa la Juve non vincerebbe un'emerita minchia quindi oggi si è pareggiati con il sorriso perché il Cagliari nel secondo tempo ha dominato ha dominato per il buon 25-30 minuti speriamo toccando Cimarroni che non venga come è giusto che sia perché è giusto che venga l'espulsione diretta squalificato per due partite speriamo che ci fanno la grazia e speriamo che riducano la squalifica a una giornata punto quindi basta a lamentarsi degli arbitri gli arbitri sono scarsi ma noi abbiamo qualche giocatore molto molto più scadente dell'arbitro che abbiamo visto oggi passo e chiudo tre aspetti fondamentali ambizione ambizione ma per avere l'ambizione devi comprare devi spendere o devi costruire nel tempo come stiamo facendo autocritica perché se stai sempre a criticare gli altri non curi te stesso non curiamo noi stessi ok e presa di coscienza ragazzi attualmente non siamo a inizio stagione bisogna si bisogna vedere la rosa e non esaltarci che abbiamo preso solo Lukaku perché Lukaku non può fare non fa non può fare non può non è Ronaldo del 98 che ti una squadra mediocre te la rende una grande squadra quindi ma come giusto che sia anche Cristiano Ronaldo in questa squadra non farebbe la differenza quindi presa di coscienza dove può arrivare l'Inter come negli altri anni tra le prime quattro nel girone fallisce come gli altri anni quindi è un'Inter migliorata ma non troppo non arriverà quarta arriverà terza arriverà seconda ovviamente ci dobbiamo sempre provare però dobbiamo essere consapevoli ok quindi ragazzi ambizione autocritica e coscienza iscrivetevi al canale pollice su se vi piace il mio discorso attivate la campanella avanti Inter avanti Mr. Conte purtroppo da noi si è meno tutelati e avanti Curva Nord oggi spettacolare come sempre ciao raga